Qualche mese fa sono venuto qui in visita e ovviamente una delle tante questioni che i nostri collaboratori di Nova Puglia mi avevano posto è ovviamente quella della stabilità del loro posto di lavoro. Vi ricordo che questa società purtroppo solo pochi anni fa era fondata sul lavoro interinale, su rapporti di lavoro precari e questo ovviamente non va bene perché è una centrale di appalto molto importante, tra breve diventerà una delle centrali di appalto più importanti d'Italia perché le cose stanno migliorando. Anche questo sono venuto a dire qui a Nova Puglia e naturalmente la stabilità del posto di lavoro e la libertà di chi ci lavora è importantissima. Da oggi potranno votare chi gli pare perché non si dovranno raccomandare con nessuno. È esattamente il contrario di quello che qualche ingenuo sta dicendo in questi giorni perché personale precario fa peso al suo destino. Il personale che ha un contratto a tempo indeterminato fa quello che gli pare, è libero e questa ovviamente è la più grande soddisfazione che io possa avere. Però c'è anche di più, questa è una società che è importante quanto una banca, per essere chiari, nel senso che maneggia miliardi di euro ed è ovviamente chiaro che ogni dipendente deve essere messo nelle condizioni di serenità per poter applicare l'articolo 97 della Costituzione, il principio di imparzialità e buon andamento nella maniera più serena possibile. Io sono venuto oggi quindi a fargli i doppi auguri per l'anno che verrà, che sarà un anno in cui Nova Puglia crescerà moltissimo e darà un contributo enorme alla Regione Puglia perché attraverso i risparmi che avremo sulle gare noi assumeremo il personale in sanità sempre di più e faremo sempre più equilibrio e quindi rafforzeremo e diminuiremo le liste d'attesa a partire da Nova Puglia. Faremo selezione delle buone aziende perché anche questo è il compito di Nova Puglia, selezionare le aziende innovative che danno nuovi servizi e fare in modo che la concorrenza selezioni le aziende più meritevoli. Qui dentro si lavora assai, si soffre come in qualunque altro posto di lavoro e quindi sono anche venuto a ringraziare tutti i miei compagni di combattimento, chiamiamoli così, per tutta la sofferenza che hanno messo e per tutta la resistenza che hanno fatto anche alle cose che non sono andate bene perché naturalmente in ogni luogo umano le cose hanno anche questo aspetto. Ci sono momenti in cui bisogna avere la forza di reggere anche le cose che non vanno benissimo e superarle.